Benvenuti in Jean Marcel Jean Marcel è un marchio di orologi di lusso svizzero che ha saputo conquistare il cuore degli appassionati di orologeria di tutto il mondo, grazie alla sua costante ricerca della perfezione, e alla sua capacità di coniugare la tradizione orologera svizzera con un design moderno e innovativo. Fondato nel 1987 in Svizzera, il marchio Jean Marcel è noto per la produzione di orologi di alta qualità, caratterizzati dalla precisione, l'eleganza e la bellezza. Jean Marcel offre una vasta gamma di orologi, includendo sia modelli classici che moderni, adatti ad ogni stile e personalità. I modelli classici di Jean Marcel sono ispirati al design degli anni 50 e 60, e si distinguono per la loro eleganza sobria e raffinata. I modelli moderni, invece, sono caratterizzati da un design innovativo e originale, che si ispira alle forme e ai materiali più all'avanguardia del momento. Gli orologi Jean Marcel sono realizzati principalmente in acciaio inossidabile o in oro, ma ci sono anche modelli in altri materiali pregiati come il titanio o il carbonio. Ogni orologio è dotato di un movimento svizzero di altissima qualità, che garantisce la massima precisione e affidabilità nel tempo. Inoltre, molti modelli di orologi Jean Marcel sono dotati di funzioni aggiuntive, come il cronografo, la data e la fase lunare. Il marchio Jean Marcel è presente in molti paesi in tutto il mondo, e i suoi orologi sono molto apprezzati dai collezionisti di orologi di lusso. Grazie alla sua costante attenzione, alla qualità e alla sua capacità di coniugare la tradizione orologera svizzera con un design moderno e innovativo. In conclusione, se siete alla ricerca di un orologio di lusso di altissima qualità, che coniughi la tradizione svizzera con un design moderno e innovativo, Jean Marcel è sicuramente il marchio che fa per voi. Grazie alla sua vasta gamma di orologi, alla qualità dei materiali e dei movimenti utilizzati nella loro produzione, Jean Marcel è in grado di soddisfare le esigenze di ogni appassionato di orologeria, offrendo orologi di lusso di grande bellezza e valore.